Sono uno scienziato e porterò la mia metodologia di ricercatore anche nel lavoro accademico. Alle idee chiare di chi è abituato alla pragmaticità il nuovo rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, ordinario di patologia generale e ricercatore nel campo dell'oncologia molecolare, per il quale praticamente ieri il mondo accademico a cui l'hanno si è espresso con un plebiscito nella prima votazione per la scelta del neorettore dopo l'era Inverardi. Con 379 voti contro i 111 del suo competitor, Carlo Masciocchi, Edoardo Alesse riceverà le consegne dalla rettrice Paolo Inverardi il 1 ottobre, traghettando così la vita dell'Università dell'Aquila per i prossimi sei anni. Un Ateneo, quello aquilano, che non ha nulla da invidiare ai più grandi sistemi universitari italiani, dice Alesse, e che ha dalla sua parte una marcia in più, quella della forte vitalità e la voglia di dimostrare il meglio di sé dopo gli anni bui e ormai alle spalle del terremoto. Sono presentato in questa candidatura con un programma articolato in 12 punti che riguardano la didattica, la ricerca, la terza missione, l'internazionalizzazione, il rapporto con gli studenti, il rapporto con la città, il rapporto con gli altri atene del territorio. E quindi, con fare metodologico, che è quello che vivo ogni giorno, diciamo, nella mia attività di ricerca, ho prefissato dei punti, dei percorsi e in sei anni cercherò di raggiungere gli obiettivi. Secondo lei, qual è il futuro, il destino di questo Ateneo che, insomma, esce da un periodo molto duro che è quello del post-sisma? È un futuro rosio. Io credo che i precedenti rettori, i rettori che mi hanno preceduto, abbiano fatto un buon lavoro per evitare la catastrofe post-sisma, hanno gettato le basi per ripartire. Sarà un onere che cadrà sulle misfalle quello di ridare slancio ed efficacia all'università, ma le premesse ci sono tutte, questa università, l'ho sempre detto, è ciò che regge questa città. Abbiamo un numero di scritti adeguato a quelle che sono le nostre risorse, in termini di risorse umane, risorse per la didattica, risorse laboratoriali, posti studio, biblioteche. Quindi io non mi aspetterei numeri molto più elevati di quelli che abbiamo. D'altro canto, quello che l'università deve perseguire come obiettivo finale e ultimo è il raggiungimento di una qualità media accettabile delle persone formate che le rendano poi appetibili al mondo del lavoro. Questo è il nostro obiettivo.